Dopo un'attesa lunga tre anni, cinque persone tra i 68 e gli 86 anni con scarse possibilità economiche da oggi avranno una casa. Sono i primi destinatari degli alloggi in via San Nicola al Nilo che il comune di Napoli ha ristrutturato e messo a disposizione di anziani autosufficienti e già in carico ai servizi sociali che non possono permettersi una casa. Questo diciamo è l'inizio di un'azione per iniziare a liberare la città dalle persone senza dimora ed è questa la risposta giusta, non i dormitori ma prendere i nostri immobili bene confiscati dalla camorra e iniziare a distribuire tra le persone che ne hanno bisogno. Pagano un piccolissimo fitto perché noi siamo sempre dell'idea che anche una cosa minima loro la debbano dare per un senso di dignità. Liberi da diversi anni, gli appartamenti sono di diversa quadratura e completamente rimessi a nuovo con fondi comunali. Sono otto quelli disponibili, uno dei quali già assegnato nei mesi scorsi ed altri due è oggetto delle procedure per l'assegnazione. La cerimonia di consegna simbolica delle chiavi si è tenuta questa mattina in sala giunta con il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore al welfare Luca Trapanese. Le persone sono state scelte attraverso i servizi sociali che li seguivano da tempo. Sono tutte persone senza reddito e senza abitazione, quindi con una forte necessità di essere accolti. Un piccolo passo, però un passo concreto significa dare una casa a anziani con reddito estremamente basso che sono aventi diritto per un'assegnazione di una casa, soprattutto delle case comunali che altrimenti sarebbero state abbandonate come è capitato spesso e quindi non messe a disposizione dei cittadini. Nostra intenzione insieme all'assessore Trapanese di dare una risposta sul tema dell'emergenza abitativa per i più fragili, partendo proprio dagli anziani e dai senza fissa dimora, utilizzando il patrimonio comunale ma anche il patrimonio confiscato alle mafie che sta rientrando nella disponibilità del comune e un modo per fare una cosa concreta.